Ciao ragazzi, sono Bindol e oggi abbiamo preso il via con una serie di unboxing Ultimo, ma non ultimo Ultimo, Ultimate, Monster Hunter 3 Ultimate, il bundle uscito con la Wii U Di Tia Tia finalmente si prende la Wii U E smette di venire a casa mia a giocare a Scroco che ha rotto il cazzo Aspetta, fermati, torna dietro un attimo A me è una bellissima panoramica su questo stupendo simbolo La fusione fra Monster Hunter e Wii U, basta, ora la apriamo No, aspetta, guardiamo tutti i lati Allora, dobbiamo guardare Poi voglio guardare Diamo un po' cosa c'è contenuto Dai, Leo, facci la spiegazione C'è la Wii U, nera, 32GB No, andiamo in ordine, il 2 è il pad Dai, te lo dico io, l'alimentatore del pad, l'HDMI Lo stand del pad che te lo ricarica, lo stand che non te lo ricarica I due supporti per la console, la sensor bar, il manuale di istruzione interattivo col CD E il pad È il gioco, forse È il gioco, il gioco e il pad Il pad e il controller Non credo questo sia il manuale di istruzioni, sai Dieci Disco di Wii U, Monster Hunter 3 e Ultimate Vai, apriamo Non so perché mi hai dato quella spagnola, eh Prendi il cutter e spacca tutto Spacca tutto, no, non spaccare un cazzo che la voglio portare a casa e metterla Non si apre così Vai, apri, sto scherzando Ma perché mi devi farle prese mentre facciamo il video? Io però l'atterrei Sdraiala, sdraiala che sennò ti bolla giù tutto Eh sì, sì, sdraiala Sdraiala Sdraia e stila Qua sta appuntando una magnifica Wii U Prima c'è un pad avevo visto La console più fallimentare degli ultimi dieci anni Non dimenticare PS Vita, buono Perché? Devi dire così? No, sto scappando C'è l'inserimento a cassetti, cioè sembra di aprire un mobile Ikea Sono tutti molto contenti delle vendite di Wii U in effetti Tranne Nintendo Tutti tranne Nintendo Dai, tanto Monster Hunter la risolleverà Questa la dobbiamo aprire, tanto è quella nera l'abbiamo già aperta No, non apriarla, dai, abbiamo già l'unboxing ragazzi nel secondo canale Questo invece è il pad Sicuramente Sì Sì Andiamo invece a questo, dopo lo apriamo Questo è molto più interessante Io direi che potremmo aprire anche solamente il tutto ragazzi Vabbè, il Network Premium Questa roba È un'offerta limitata per creare l'account C'è un'esperienza di come iscriversi online Vabbè, faccio l'alimentatore Questi sono i cavetti Ah, le varie paletterie Vediamo il pad che è interessante Il pad, esatto Anche perché come si fa giocare a Monster Hunter con qualcosa là non lo so No, vabbè che fa le stesse cose Eh, però si gioca meglio con questo Col pad si gioca sicuramente meglio Poi il pad è bello Sfido trovare qualcuno che dice Però è che quello del WiiWall per tutto è un buon pad Adesso vediamo Non so come mai la Nintendo È troppo lucido Però Sì, è veramente sparaflashoso È un buon pad Anche perché Ha tenuto Quindi è tipo Ah, questa Questa è la vidimento fra Xbox e PS3 Perché invece che le leve C'è nessuna di due Apri il gioco, va là Comunque sì Rimettilo lì A te sembra un pad A me sembra un pad lucicoso Questo ragazzi è una bomba di gioco Lo dice Tia, lo dice Che lui è un grande intenditore Sì, insomma Abbastanza Tutto a merito mio Appena finito Lucky Luke per computer Ma era mi ha preso un sacco Oh, io ce l'avevo su PS1 Ce l'ho ancora su PS1 Dai Buon lavoro Il prossimo video gameplay Lucky Luke per PS1 Oh ma sei incastrato Prendi il coso No, ti guardo soffrire Avere visto che tu sfotti tanto me con gli unboxing Allora, leggiamo il modo che c'è scritto Ma perché mi hai dato in spagnolo? Ah no, ok Un'avventura epica nel... Un'avventura in spagnolo, credino di Ocane Eh, de scombre, de combre Un'avventura epica nel mondo di Monster Hunter Perché la Nintendo pensa... Prima gli spagnoli, poi noi Che stronzi No, pensa a far sì che tutti imparano una lingua alternativa all'italiano Sì, va bene Certo Che non si è l'inglese Vabbè, un giocatore Che poi in realtà sono di più online È compatibile con il Wii U Gamepad Il pad... Questo è il pad controller pro Tipo una cosa così Il pro della Wii Questo non so che cazzo sia Ah, il pro della Wii, ok E questo è il Wii Moto Non male Abbiamo dato troppo Apri Vabbè, dato sono solo le istruzioni su come non farci male Dai, apri Vediamo se batte Gears Che è Gears C'è subito un bel codice da fottere No, c'è un contenuto Della nintendo Quella serie graffata Nessuno li ha mai inseriti E la nintendo continua a mandarli Bello Un gioco di gioco Con... Vai, giralo Il pesce Le creature amari Lo giriamo? Sì Riprendi Leo Guarda Leo Eccolo Ciao Leo Ciao Leo Bene, proseguiamo E qui abbiamo Vabbè, qua Attenzione perché Informazioni sulla Wii No, non so perché Non puoi vedere questi Quando abbiamo attelati troppo in passato Ehm Eh, beh Ho dettuto due lingue Ben due pagine Di cartone spesso Di cartone spesso Sì, sì, sì E a colori Attenzione perché In realtà è una pagina di spagnolo Una pagina di portoghese E una pagina di italiano Quindi liberato da una pagina È quasi il record Perché questo gioco è uscito solo in Spagna Portogallo e Italia Oddio, spero di no Ma no, sto scherzando Ma perché mi devi prendere per il culo oggi? Cioè Che molesto Comunque qua ci fanno vedere i tasti Ovviamente con il touchscreen Abbiamo delle funzionalità in più Che sennò non avremmo Oh ragazzi Devo andare a mangiare Guarda come mi vibro la mano Sto per svenire Salutiamo Tanto non è che c'è altro da dire Adesso devo andare a casa A giocarci Più che altro Allora ragazzi Spollissate Anche voi Qua in sto video Per far giocare Tia Il più possibile Esatto Ciao a tutti 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 Ciao a tutti